Cosa si aspetta? Mi verrebbe di rispondere cosa si aspetta il forum da me. Questa è un'esperienza che facciamo già da diverso tempo, con molte imprese. Ogni anno abbiamo qui con noi circa 100 persone provenienti da tutta la Puglia e tanti esperti che consentono insieme agli imprenditori di vivere un'esperienza totale di apprendimento. Potete fare il salto della vostra vita e aprire le vostre gambe. La mia piccola è una di acquistare un'esperienza che si aspetta il lavoro. Ci sono un'esperienza che sti faccioare un'esperienza di apprendimento. La mia piccola è una di via questo, non è la vista. Grazie a tutti Grazie a tutti La leadership non è una cosa che la gente ti dà Se sei capace te la prendi La leadership non è una cosa che la gente ti dà La leadership non è una cosa che la gente ti dà Andra di valore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti